Benvenuti alla trasmissione che facciamo sul commento al Vangelo della Domenica. Siamo nella domenica trentatresima del tempo ordinario, sta finendo l'anno liturgico, ma innanzitutto voglio richiamare la notizia di Papa Francesco che è stato ad Assisi per preparare la giornata mondiale dei poveri. Ecco, la povertà ancora oggi, noi dobbiamo contrastare contro la povertà economica di chi non ha un lavoro, di chi sopravvive con il reddito di cittadinanza o con altre difficoltà. E poi la povertà anche culturale, c'è molta ignoranza, ci sono tanti ragazzi, tanti giovani in dispersione scolastica, c'è una povertà morale, non si conosce più che cosa è il bene, che cosa è il male e quindi dobbiamo sentire oggi che la povertà c'è e dobbiamo contrastare. L'associazione è il cuore che vede, sta lavorando anche nel suo piccolo in questo senso. Ricordo che il giorno della mia ordinazione sacerdotale è stato letto questo brano del Vangelo di Luco in cui Gesù dice, ecco, lo Spirito del Signore è su di me, mi ha mandato per evangelizzare i poveri, la Chiesa deve essere accanto ai poveri, vicino agli ultimi ed essere la voce degli ultimi. Ma andiamo subito al Vangelo di oggi, siamo quasi sul finire del Vangelo, siamo al capitolo tredicesimo, nei versetti 24-32 e dice così, Gesù disse ai Suoi discepoli, in quei giorni dopo quella tribolazione il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Ecco innanzitutto il sole si oscurerà, questo significa che la vita della terra dipende dal sole, ecco la terra non può sentirsi autonoma nella sua vita, la vita della terra dipende dal sole e io amo fare un'equazione facile facile da capirsi, che la terra sta al sole come l'uomo sta a Dio, la terra dipende dal sole, la vita dell'uomo dipende da Dio, non dal suo io. L'atteismo toglie questa D e mette l'Io con la l'Io dell'uomo fosse Dio, non è così e non può essere così. Questo ci dice appunto il Vangelo di oggi, che c'è per quanto riguarda la terra, per quanto riguarda la nostra vita personale, una fine e nello stesso tempo un fine, cioè un punto di approdo, un punto di arrivo. Gesù quindi ci aiuta a guardare questo futuro con ottimismo, con speranza. Cosa dice? Allora vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Ecco cosa ci dice. Ci dice che in questo futuro c'è lui, vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Quel crocifisso è risorto, è il vivente. E questo ci dice Gesù. Per questo ci dobbiamo affidare a lui. Ci dobbiamo affidare di lui, ci dice ancora in questo brano del Vangelo come vedremo più in giù. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi letti dei quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. E' il giorno finale, il giorno del giudizio. Dalla pianta di Fico imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi. Quando vedrete accadere queste cose sappiate che egli è vicino e alle porte il Signore viene. In verità io vi dico, ancora una volta spunta questa frase che ci dà un insegnamento di certezza, in verità io vi dico non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno ma le mie parole non passeranno. E questo significa che il Signore ci invita a fidarci di Lui, a fidarci della Sua parola. Quanto però a quel giorno e a quell'ora nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo, né il figlio eccetto il padre. Non possiamo essere profeti di questa fine del mondo. Dobbiamo semplicemente dire quello che ci ha insegnato Gesù. Lo sa il padre. e allora Gesù poi ci dirà, lo vedremo prossimamente in altri brani del Vangelo, di essere sempre vigilanti. Grazie per avermi ascoltato e buona domenica a tutti e a tutte.